Dopo aver ricevuto minacce di morte realistiche in seguito all'uscita del documentario Netflix su Meghan Markle, la sorella di Meghan afferma di aver dovuto traslocare. La sorella di Meghan Markle, Samantha Markle, è stata costretta a traslocare e ha dovuto affrontare minacce di morte realistiche dopo l'uscita del documentario Netflix della Duchessa del Sussex, secondo i nuovi documenti depositati in tribunale che hanno attirato l'attenzione. La Duchessa del Sussex è stata citata in giudizio dalla sorella Astra per i commenti fatti a Oprah Winfrey nel 2021 e sulla sua docuserie Netflix, Ferry Meghan, nel 2022. Ma ha perso la causa a marzo, quando una corte statunitense ha archiviato il caso di diffamazione. Tuttavia, sta attualmente lottando per appellarsi alla sentenza presso la Corte d'Appello dell'11 Grad di circuito. Lo show Netflix di Meghan conteneva un segmento in cui si affermava che Samantha faceva parte del gruppo che stava diffondendo disinformazione e si concludeva con Meghan che diceva, state facendo sì che la gente voglia uccidermi. Un fascicolo dell'avvocato di Samantha, visionato dal sito Newsweek, recitava, non ci sono dubbi che Meghan Markle abbia attaccato verbalmente sua sorella Samantha Markle nel suo documentario. Secondo quanto riferito, la denuncia aggiunge che la sorellastra della duchessa non ha mai fatto parte di alcun gruppo che diffondeva disinformazione, non ha mai trollato Meghan, non ha mai fatto parte di alcun gruppo di odio, non ha mai usato la parola con la N nei tweet, non ha mai monetizzato alcun tweet di odio contro Meghan, o fatto qualcosa per far desiderare a qualcuno di uccidere Meghan o per farla innervosire a causa di tali attività.